Era la notte tra sabato e domenica quando, dopo aver trascorso una serata in un locale di Sansepolcro, si era accaneto sugli arredi del centro cittadino, vandalizzato alcuni vasi in ceramica, danneggiato cartelloni e ribaltato bidoni, lasciandosi alle spalle uno scenario apocalittico. Numerose le segnalazioni dei cittadini, sgomenti per ciò che stava accadendo in pieno centro storico. Adesso per il 17enne, che era stato rintracciato alle prime luci dell'alba dai carabinieri in forte stato di ebrezza alcolica, è scattato il DASP urbano. La divisione anticrimine della questura, diretta dal vicequestore Claudia Famà, ha raccolto infatti gli atti riferiti all'episodio e dalla disamina è emerso chiaramente che le condotte potessero costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Così, per la durata di un anno in base al provvedimento, il minorenne non potrà avere accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento che si trovano nel centro storico di Sansepolcro e nemmeno fermarsi o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.